Bretella dell'Albera, il cantiere infinito. La variante alla strada provinciale 46 è attesa da decenni, dal quartiere Maddalene e in zona Pomari. Oggi il sindaco di Vicenza ha scritto ad Anas per sollecitare una conclusione dei lavori più rapida possibile. Ai tempi bisognerebbe chiedere ad Anas, è un'opera dello Stato sulla quale stiamo facendo sollecitazioni importanti e naturalmente torneremo dal ministero sperando poi che il ministro competente possa darci ascolto perché i tempi sono diventati veramente insostenibili da questo punto di vista per un'opera che doveva terminare alcuni mesi fa. Ad Anas il sindaco ha sollecitato una rapida conclusione dei lavori ma ha anche chiesto particolare attenzione per l'ambiente, per il paesaggio, per la salute delle persone che abitano nella zona. La richiesta ad Anas è quella di realizzare le cosiddette opere di mitigazione che significa piantumare arbusti e realizzare barriere antirumore. La tutela delle persone per quanto riguarda i rumori del passaggio delle auto, l'inquinamento atmosferico, la presenza delle piantumazioni serve a fare da barriera visiva ma anche per dare ossigeno, rispetto a liberare l'ossigeno e incamerare l'anedita carbonica.